All'indirizzo linguistico del liceo Redi si è conclusa anche per il secondo gruppo di studenti americani in questo anno scolastico l'esperienza di scambio interculturale con gli studenti aretini. Una decina di ragazzi new yorkesi ha potuto apprezzare le bellezze del territorio toscano e fare esperienza della quotidianità, ospiti delle famiglie dei loro colleghi aretini. Noi abbiamo portato dieci studenti, siamo andati a Firenze, a Pisa, a Lucca, abbiamo condiviso le esperienze con le famiglie, hanno fatto la pasta. Questo scambio è stato molto divertente, molto utile anche per l'istruzione e lo scambio culturale. Portiamo a termine questo scambio, sempre molto proficuo, molto interessante, molto formativo per sia i nostri ragazzi che i ragazzi americani. Un confronto di due mondi diversi però poi alla fine si ritrovano con tante cose in comune. Ora siamo pronti per vivere l'ultima parte dello scambio e quindi con la nostra partenza. Tra qualche giorno sarà il turno degli studenti del liceo Reddy che partiranno alla volta di New York. Partiremo da Roma il 16 marzo, saremo ospitati dai nostri amici americani per due settimane, quindi staremo fino al 30 marzo. Abiteremo a Long Island e le famiglie che sono venuti qua, i ragazzi che sono venuti qua, noi staremo con gli insegnanti, visiteremo New York, andremo a scuola e faremo le attività che loro hanno organizzato per noi.